Simone Glorioso era stato operato ieri alla testa al Trauma Center di Villa Sofia, ma le sue condizioni erano ormai disperate. Era un giovanissimo a promessa del pugilato. Nella categoria 57 kg era stato recentemente convocato in nazionale per un allenamento al centro sportivo dell'esercito a Roma. L'anno prima, nella categoria 54 kg, aveva conquistato il titolo italiano. L'associazione pugilistica d'Alessandro ha pubblicato un post di cordoglio su Facebook per ricordare il suo campioncino. I due giovani, la mattina del 24 dicembre, sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di Viale Lazio. Michelangelo Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto da un mezzo che trasportava giornali. Il conducente non si è accorto di nulla, ha notato solo successivamente tracce di sangue. L'autista è stato ascoltato dagli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. È stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma. Grazie. Grazie.